Ero venuto in Spagna con la vaga idea di scrivere articoli per qualche giornale, ma mi ero arruolato nella milizia quasi immediatamente, perché a quel tempo e in quell'atmosfera sembrava la sola cosa che si potesse fare. Gli anarchici avevano ancora il virtuale controllo della Catalogna e la rivoluzione era ancora in pieno vigore. A chiunque si fosse trovato là fin dal principio, probabilmente doveva sembrare già in dicembre o in gennaio che il periodo rivoluzionario volgesse al termine. Ma per chi fosse venuto direttamente dall'Inghilterra, l'aspetto di Barcellona era qualcosa che sconvolgeva e sopraffaceva. Era la prima volta che mi trovavo in una città dove la classe operaia fosse al potere. Praticamente ogni edificio di qualsiasi dimensione era stato occupato dai lavoratori e drappeggiato con bandiere rosse e nere degli anarchici. Su ogni muro erano stati scribacchiati la falce e il martello, con le iniziali dei partiti rivoluzionari. Quasi ogni chiesa saccheggiata e le immagini sacre riarse. Qua e là le chiese venivano sistematicamente demolite da squadre di operai. Botteghe e caffè esibivano scritte che ne annunciavano la collettivizzazione. Perfino i lustrascarpe erano stati collettivizzati e le loro cassette dipinte di rosso e nero. Camerieri e inservienti dei negozi vi guardavano dritto in faccia e vi trattavano alla pari. Forme servili o anche soltanto cerimoniose del parlare erano temporaneamente scomparse. Nessuno diceva «senior» o «don» o nemmeno «usted». Ognuno chiamava gli altri «compagno», dandogli del «to» e diceva «salud» invece di «buenos dias». Ed era l'aspetto della folla la cosa più straordinaria. Esteriormente si trattava di una città dove i ceti ricchi avevano praticamente cessato di esistere. A eccezione di una sparuta minoranza di donne e di stranieri, non c'era assolutamente gente ben vestita. Tutti in pratica indossavano i rozzi panni della classe operaia, o tutte blu o qualche variante della uniforme dei miliziani. Tutto ciò era bizzarro e commovente. C'erano molte cose che non comprendevo e in un certo senso tutto ciò non mi piaceva. Ma riconobbi nella situazione immediatamente uno stato di cose per il quale valeva la pena dibattersi.